Signore e signori, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho un accessorio compatibile sia con smartphone iOS sia con smartphone Android molto molto utile per tutti coloro che fanno video sia sui social che su YouTube che è questo qua che ho tra le mie mani ma voi direte che cos'è quella cosiddetta di piccola che ho tra le mani che è utile? Bene, se volete sapere e scoprirlo rimanete sintonizzati e iniziamo dopo la sigla Di vista, come vi stavo dicendo, cos'è questo accessorio che ho tra le mie mani? Questo qua ragazzi è un vlog screen ovvero praticamente questo qua tramite il supporto per smartphone che troverete in confezioni quindi questo qua che ha questo incavo, vedete questo spazzetto che vi farò vedere il perché ha questo spazzetto perché è molto molto utile come cosa praticamente collegandolo tramite una rete wifi che lui stesso andrà a creare in cui voi dovrete collegarvi col vostro naturalmente smartphone e utilizzando questo comodissimo supporto in dotazione che avrete in confezione per lo smartphone potrete andarlo a collegare e a duplicare lo schermo direttamente su questo vlog screen quindi avere in temporale praticamente e vedere quando fate foto o video se vi state inquadrando correttamente oppure no ma oltre a queste cose qua cosa troviamo in confezione e poi come si configura perché naturalmente vi farò vedere anche come si configura e come si collega abbiamo naturalmente un comodissimo telecomando bluetooth che si può con già dentro all'interno una pila da utilizzare poi naturalmente abbiamo le istruzioni perché quelle sono ovvie sono però poi vi farò vedere appunto come dicevo come si farà a configurare e collegare correttamente un smartphone un cavo USB tipo C appunto per ricaricare il nostro schermetto e una simpatica borsina da poter portare a presso se uno vuole evitare che appunto lo schermo si possa graffiare involontariamente nell'utilizzo per ora vi faccio vedere brevemente come funziona e come si configura collegandolo correttamente tramite la rete wifi create da questo stesso block screen al vostro smartphone e come fa a riprendere sono i tasti che troviamo naturalmente sul nostro block screen per poter regolare appunto il display naturalmente il block screen ha batteria da 800 mAh quindi un'ottima batteria per punto l'uso che bisogna farne poi naturalmente troviamo in quel lato qua l'ingresso USB tipo C per poter ricaricare il nostro block screen e due fori di cui uno dei due fori quando noi andremo a mettere in ricarica si accenderà di rosso su qualora la batteria si molto scarica invece quando la batteria sarà completamente carica diventerà blu quindi ci indicherà l'indicatore di stato della ricarica del nostro block screen poi in questo ritorno troviamo naturalmente i tasti di accensione e spegnimento che è questo qua, il tasto poi naturalmente il tasto brightness quindi quello per regolare naturalmente l'inglesità della luminosità del nostro schermo e il tasto selettore per passare dalla modalità direct mode in wifi alla modalità wifi mode e poi successivamente vi farò vedere come fare a settarlo e collegarlo correttamente al vostro device e naturalmente tenendo per un punto per due secondi il tasto di accensione spegnimento andremo a scendere o a spegnere il nostro block screen e avrete tra livelli di luminosità dello schermo quindi potrete regolarlo e naturalmente il selettore che potrete spostare in base alla modalità con cui dovrete utilizzare lo stesso per capire quanta batteria rimanente ha il block screen apprendete la volenza della rete vedete qui in alto qua vi comparerà naturalmente il livello di batteria che rimane se naturalmente scarico dovrete caricarlo come al solito per ricaricare vi dico che ci metterà più o meno una mezz'oretta perché la batteria è piccola quindi non ci metterà tantissimo tempo a ricaricarsi ecco una volta che avrete praticamente acceso il block screen e dovrete connetterlo come farete primo step dovrete che vi indicerà naturalmente ci sono le istruzioni qua dovrete aspettare che andare su le impostazioni del wifi e del vostro smartphone e andare a vedere se troverà naturalmente la rete in questo caso la trovate vedete che il nome sullo smartphone corrisponde al nome che troverete qua toccandolo automaticamente vi chiederà al primo collegamento di inserire la password che troverete naturalmente qua scompare sul block screen una volta che l'avrete inserita naturalmente non vi richiederà più la password perché vedrà che è una rete amica quindi non avrete più problemi come secondo step cosa dovete fare nella direct mode e poi vi farò vedere cos'è la wifi mode per praticamente duplicare lo schermo dovrete scorrere e andare nel centro delle notifiche di controllo tenendo premuto duplica schermo per iPhone naturalmente dovrete utilizzare la stessa funzione di mirror screen sugli smartphone Android e aspettare che l'iPhone rilevi che c'è un dispositivo che può duplicare lo schermo quindi con Airplay toccandolo automaticamente iPhone invierà il segnale e si duplica lo schermo sul vostro block screen molto utile perché questo block screen ha anche internamente un giroscopio quindi quando voi andrete a ruotare il block screen sotto sopra ruoterà automaticamente anche l'immagine mentre invece per poter interrompere la duplicazione come potrete fare in due modi ovvero o andando sempre all'interno del vostro diciamo del Airplay del vostro smartphone o del mirror screen del vostro smartphone e toccando interrompe duplicazione automaticamente lo smartphone interromperà la duplicazione dello schermo sul vostro screen o altrimenti spegnendo il block screen quindi andando a spegnerlo automaticamente l'iPhone tornerà sulla rete Wi-Fi collegata, se avete un router in casa tornerà alla prima rete Wi-Fi disponibile o rimarrà in 4G o in 5G quindi rete dati mentre invece la Wi-Fi mode quindi scorrendo il tastino verso la W ecco come Wi-Fi mode cos'è questa Wi-Fi mode di cui tanto ci parla? naturalmente il mio smartphone è collegato come al solito al vostro si deve collegare naturalmente sempre al mirror screen quindi andrò a toccare sempre nella sezione Wi-Fi il Wi-Fi che crea naturalmente adesso ogni tanto si verrà a farlo anche lui che crea naturalmente il block screen in questo caso si è collegato correttamente questa modalità qua cosa serve? scansionando questo QR code che vedete qua a lato cosa potrete fare? andrete sui settaggi web del block screen e voi potrete andare a dargli l'input che è il seguente se siete e fate molti video in studio e volete evitare tutte le volte di connettere manualmente il vostro smartphone al block screen quando andrete ad accendere il block screen in modalità Wi-Fi mode e sarete sotto la stessa rete Wi-Fi alla quale sono collegati entrambi quindi sia lo smartphone che il block screen automaticamente il block screen lo rileva e si collega direttamente al vostro iPhone senza doverlo connettere manualmente e voi dovrete semplicemente abilitare naturalmente la duplicazione dello schermo dalle impostazioni del vostro smartphone quindi veramente comodissimo nel caso in cui facciate molti video in uno studio collegati allo stesso router Wi-Fi sia con il vostro smartphone sia con il vostro block screen connessione e questo qua praticamente è la mia ripresa vedete che io sto riprendendo con il mio iPhone 15 il mio iPhone 7 Plus che è la mia videocamera secondaria e vedete che collegato come ho fatto a vedere prima voi vedrete sia con quando siete in modalità video che sia andrò a scorrere con il dito andrete anche in modalità slow motion o in modalità addirittura foto come in questo caso qua però vedete che comunque se faccio a vedere quella video perché si vede un po' meglio la risoluzione è buona cioè ragazzi è veramente buona perché lo vedo occhio nudo non tramite la videocamera perché con le luci contro fate un po' fatica a vedere ma vi dico con la qualità c'è veramente una qualità altissima della cosa e vi potete vedere molto più facilmente rispetto a uno specchio oppure rispetto sicuramente all'Apple Watch per chi non ce l'ha e col supporto magnetico quindi col supporto dello smartphone che è anche magnetico non avete neanche il problema di dire dove lo collego perché tutto quanti in uno senza dover avere altre cose certo dovrete avere un trepiede e un cavalletto però comunque tutto quanti in uno è la qualità dello schermo è veramente di altissimo livello quindi perfetto infatti se poi io faccio partire un video così vedete che vi vedete in tempo reale mentre state facendo la foto il video quindi non avrete problemi e vedrete anche nel caso in cui doveste vedere appunto far mostrare un prodotto se la messa a fuoco del prodotto è corretto o no quindi fantastico proprio avete visto naturalmente dopo la panoramica e come fare a connettere il vostro smartphone e come funziona effettivamente il block screen ragazzi questo qua per una cifra irrisore perché vi garantisco è una cifra che io cioè voi penserete costa un botto costa invece costa veramente poco costa pochissimo perché siamo attorno ai 60 euro quindi veramente un'ottima cifra come cifra avete risolto il problema del block screen vi provate a immaginarvi quante volte avete dovuto stare lì guardare per esempio per chi non ha l'Apple Watch perché io ho Apple Watch ma chi non ha l'Apple Watch effettivamente fa fatica vedere se uno è inquadrato correttamente e come ben sapete la fotocamera frontale dello smartphone è solitamente meno risoluta come qualità rispetto a quella principale quella posteriore quindi con questo avete risolto il problema perché in un solo colpo potrete collegare tranquillamente il vostro smartphone alla rete wifi dello stesso collegarlo e vedervi in temporale poi avete visto anche la qualità abbastanza alta dello schermo perché funziona veramente molto molto bene quindi ragazzi io questo ve lo straconsiglio perché veramente io quando l'ho preso me ne sono innamorato ed è comodissimo per me perché io prima utilizzavo per vedermi uno specchio che ho fatto appunto un video sul mio canale se potete andare a rivederlo che regolandolo potevate vedervi in temporale come faccio io se inquadravate mi inquadravate bene o se i prodotti che mostravo venivano messi a fuoco correttamente dal mio iPhone in più aveva anche due attacchi laterali per quanto riguarda attaccarci tipo la luce o il microfono con questo qua ragazzi è perfetto perché avete tutto quanto direttamente collegato e il fatto che si possa collegare come vi dicevo prima anche tranquillamente con il magnete avete in tutto in uno senza dover prendere mille pigli e avete anche in confezione un telecomando bluetooth cosa che altrimenti se doveste prendere uno schermo apposto come ho fatto io da poco naturalmente dovete prendere anche il telecomando quindi questo qua ragazzi ve lo consiglio perché per tutti quelli che fanno vlog o che non sanno come fare a vedere se sono inquadrati correttamente questa è la svolta della soluzione quindi consigliatissimo bene il mio video termina qui spero vivamente vi sia piaciuto grazie a tutti per avermi seguito e alla prossima